Buonasera a tutti, benvenuti, grazie Armando per questa presentazione ma soprattutto grazie per questa opportunità che hai creato e questa possibilità che abbiamo di parlare di un tema di cui normalmente è difficile parlare ma oggi vedremo che ci sono tanti modi attraverso i quali si può parlare della morte, dell'assenza, degli assenti. Io sono veramente onorata di condurre questa serata con due ospiti davvero straordinari che vi presento anche se forse non hanno bisogno di presentazione. Qua abbiamo Guidalberto Bormolini che dall'applauso intuisco che già un po' conoscete che è un monaco e aggiungerò però una parola che ha pronunciato su di sé oggi a cena. È anche un provocatore, un provocatore in che senso però? Un provocatore nel senso che è una persona che ci invita ma forse a volte anche ci spinge a parlare della morte in altri termini e forse anche a guardare la morte con altri occhi, sia con le parole sia con le azioni perché una cosa meravigliosa di lui è che ha trasformato insieme alla sua comunità dei riformatori nella preghiera un borgo abbandonato, un borgo che era morto in un certo senso in un luogo di mesitazione, di raccoglimento, di accoglienza, in un luogo quindi pieno di vita. Bormolini ha anche una lunga esperienza nell'accompagnamento ai morenti e proprio in questo borgo ci sarà anche la possibilità di avere un ospice. Credo che di tutte queste esperienze avremo poi modo di parlare. E poi non ha bisogno di presentazioni Alessandro Bergonzoni, un artista, anche lui con diciamo una lunga esperienza di riflessione poetico-artistica sul tema dell'assenza. E' assenza che assume molte forme, assenza che è da un lato l'assenza del coma e questo per esempio è molto presente nella sua esperienza nella casa di riabilitazione, nella casa dei risvegli Luca De Migris dove proprio è come dire uno spazio in cui c'è questa dimensione dell'esserci con il corpo e però in uno stato diverso della coscienza. Quindi come dire assenza o presenza si confondono in questo territorio diciamo dello stato vegetativo del coma. Ma anche in altri in altri modi una cosa di cui credo che spero che si potrà parlare per esempio è tutto il tema dei migranti, delle assenze legate alla migrazione, l'assenza del corpo, i naufragi e tutta una serie di modalità artistiche attraverso i quali far vivere nella nostra presenza cioè rendere presenti e ritualizzare e ricordare coloro che un funerale non l'hanno avuto, cioè farli vivere attraverso il simbolo, attraverso il suono. Ci parlerà, spero che ci sarà occasione, di questa straordinaria performance artistica che è stata fatta a Bologna con 600 rintocchi a ricordare appunto 600 persone morte in un naufragio nel Mediterraneo. E aggiungo che Bergazzoni è stato anche vincitore del premio nazionale, leggo per evitare di sbagliare, premio nazionale cultura della pace della città di Sansepolcro. Quindi insomma abbiamo veramente tante esperienze, tante belle cose che ci possono raccontare i nostri ospiti, però io partirei proprio lanciando loro una domanda relativa al titolo, perché insomma è un titolo che fa pensare, fa riflettere, non so voi che idea vi siete fatti, però per me è un titolo che mi ha suscitato tante immagini, è questo Difficile non morire tutti quando muore qualcuno. Allora io partirei proprio da loro, da questo titolo, da come vedono questa frase e che significato vanno insomma appunto a questa bella modalità di presentazione di questo dialogo. Grazie Cristina, Alessandro, anche Armando che organizza questi eventi molto importanti su temi comunque un po' inediti, perché già la spiritualità non è proprio l'argomento più diffuso, se poi ci mettiamo a parlare anche di morte. Però è molto importante entrare nella dimensione di comunione nel cercare di affrontare un tema così importante, perché ci sono dei drammi secondo me che sono vissuti così tragicamente dalla nostra civiltà, perché manca una realtà di comunione nell'accompagnamento alle persone che muoiono. L'abbiamo visto in modo drammatico durante il Covid, ma il Covid ha evidenziato qualcosa che c'era. E poi spesso succede che quando veniamo privati di qualcosa ci accorgiamo che è importante e lo rivendichiamo, come quando un bambino gli prende un giocattolo che non usa mai, però ancora lì è suo. Però riscopri delle cose. Di fatto la gente moriva in solitudine anche prima del Covid e continua a morire anche dopo il Covid. Perché abbiamo relegato questo aspetto ad ambienti asettici in modo che non turbassero la nostra esistenza. Mentre invece malattia e morte sono sempre stati un fatto di comunione. Sempre. Tanto che secondo me sono anche di comunione il post. In qualsiasi forma uno ritenga di doverla credere. E questo coincide col fatto umano. Cioè noi secondo me non ci rendiamo conto fino in fondo di quanto è forte l'impatto per l'umanità della continuità di rapporto con con chi è morto. Con chi quindi oggi è assente. Cioè il titolo è forte perché è vero che oggi sono assenti. Ma invece erano più presenti di quelli che chiamavamo viventi. La nostra civiltà ha avuto una frattura drammatica. Per cui la civiltà sorge. Questo penso tutti vi ricorderete le scuole elementari che si insegnava che la storia inizia quando si scrive. Però la civiltà quando lo chiedi già vacillano un po' no? La civiltà coincide con la cura di chi va oltre. La cura dei morti. Lì sorge la civiltà. E il fatto che fosse una realtà di comunione lo dimostra il modo in cui curavano i defunti. A parte che le ultime ricerche, le ultime scoperte archeologiche hanno spostato decisamente, io non so se stanno esagerando un po' nell'entusiasmo, decisamente la datazione di quanto sorge la civiltà. Fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, si datava intorno al centomila anni fa. Non è poco, eh? Le prime sepolture cadavere. Adesso con scoperte recenti di Sudafrica li spostano addirittura duecentomila anni fa le prime sepolture. Cioè duecentomila anni di storia in cui si sta in comunione col defunto che se muore uno è parte di un qualcosa di comune e adesso diventa un fatto individuale, rinchiuso in ambiente assettico, senza un rapporto umano molto spesso e nell'inquietudine e questo rischia di privarci di qualcosa di umano. Io mi sto convincendo, forse mi sbaglio, però mi sto convincendo che errare umano, lo sappiamo tutti, siamo anche abbastanza rilassati per questo, no? Mi sto convincendo che è molto umano anche perseverare perché almeno se c'è qua in questa sala qualcuno che non ha mai perseverato, poi se si presenta, non sono io, eh? Lo vorrei conoscere perché magari mi insegna. Però cos'è che ci rende disumani? Se errare umano e perseverare umano, perché siamo onesti, se lo chiedete ai confessori lo sanno benissimo, che si dicono sempre gli stessi peccati. È una cosa noiosissima professare, uno pensava all'inizio chissà che storie mi raccontano, no? Niente di così interessante. Perché perseverare umano, allora cos'è che è disumano? È disumano l'indifferenza di fronte al dolore, alla sofferenza, alla solitudine e tutto il resto. Questo ci disumanizza. Quindi è una civiltà a rischio perché siamo usciti da un fatto di comunione, la malattia e la morte non sono più un fatto di comunione. Mentre antropologicamente, chi studia questa materia lo sa benissimo, la malattia e la morte sono sempre stati un fatto comunionale. Io mi ricordo mio nonno, quando era al tempo, finché erano dieci, lui aveva dieci figli, quindi ne eravamo tipo venti e passa cugini, che ne so, e finché non ha salutato tutti non è morto. Cioè erano registi perché era un fatto di comunione. Quindi quando tutti sono passati a salutare ha detto adesso posso morire. Capite? Cioè è successo qualcosa. Adesso manco al cimitero, no? So tante persone che non sono mai entrate in un cimitero, non hanno mai visto un defunto, non hanno mai accarezzato. Cioè abbiamo perso questa dimensione di comunione. C'è una ferita grave secondo me in questa civiltà, perché poi diventano assenti. Mentre invece una volta erano molto presenti. Cioè c'era una continuità di rapporto che faceva diventare questa esperienza del morire un arricchimento della collettività, perché comunque c'erano amici in quell'altrove che pareva essere più reale della realtà. Oggi gli scienziati ci parlano, sono tanti, il più noto diciamo che ha pubblicato con Bollati Boringhieri e Hoffman, il scienziato cognitivo, ma sono tanti, mettono in forte discussione il fatto che la realtà che noi vediamo sia la realtà. In realtà c'è un altro mondo, c'è l'invisibile, grandi scienziati come Federico Faggin insiste sul fatto che la parte materiale adesso sta lottando contro la scienza materialista. Proprio lui che ha inventato il touchscreen, il microchip e tutto, lo conosco benissimo, lavoriamo insieme in un gruppo di ricerca. Lui giustamente dice, ho scoperto che c'è altro. Ecco, quest'altro è il luogo della comunione, infatti lui lo sperimenta come un fatto d'amore di comunione. E ultima cosa, allora sempre nella dimensione comunionale c'è un documento per essere anche un po' professionista, ogni tanto far finta di essere professionisti almeno, no, finta no, però insomma un pochino ha anche bisogno. C'è un documento scientifico della società di cura operativa olandese, molto interessante, conosco bene il principale estensore con cui è ben iniziato a collaborare, è una società laicissima, quella olandese, scientifica di cura operativa, e dice che quando, prima di morire, si sperimenta un'esperienza di, in inglese è connectedness, no? È interessante però che poi in italiano lo traduciamo spesso, viene tradotto connessione. Vedete come si scade nel basso, no? La connessione è quella del telefonino, oh siamo persone noi, si chiama comunione. Un'esperienza di comunione con un più grande tutto e la persona che vive questa esperienza, sono le linee guida proprio, non riesce a esprimere agli altri, pensa di essere presa per folle, teme di non essere presa sul serio, non la dice e la perde. E dice peccato perché sarebbe una grande risorsa perché abbatte drasticamente l'angoscia della morte. Noi moriamo tanto perché ci identifichiamo totalmente con una piccola parte che muore che è il corpo. E allora ci angoscia tanto. Perdonate un paragone rossissimo, soprattutto perché ha avuto magari dei lutti e tutto, ma solo per far rendere l'idea, quando noi facciamo un incidente grave, ci schiantiamo contro un camion, la macchina si accartò, ci esce fuori il leso, ho scampato, ha pazienza la macchina, un po' mi dispiace. Perché la morte non sia incapace di dire si è schiantato il corpo, ma io ce l'ho fatta. Capite? L'identificazione totale con un piccolo dettaglio e la non comunione con un più grande tutto rende drammatica la morte, ci fa sentire come assenti, quando invece magari potrebbe essere il momento in cui siamo ancora più presenti. Perché se il piccolo principe ha ragione che l'essenziale è invisibile agli occhi, quella persona diventa tutta essenziale, meravigliosa, misteriosa, sempre affascinante e ci permette di entrare anche noi insieme a quell'assente, tra virgolette, ed essere un po' presenti nel suo mondo perché ci porta con sé, con lui, altrove. Grazie Guidalberto perché intanto mi hai riportato a scene della mia infanzia dove io sono colombiana, forse l'avete sentito da qualche esse, un po' spagnoleggiante da qualche parte, però c'erano proprio queste dimensioni degli anziani che salutavano, quindi è stato molto bello. Ma pesco delle parole, comunione, rapporto, relazione, comunità, come tratti dell'umanità, ma anche l'indifferenza come tratto invece che ci disumanizza. Io credo che questo racchiusa molto molto bene il senso del titolo che abbiamo dato al dialogo di oggi e quindi Alessandro, passo a te il microfono. Innanzitutto onorato di avere un monaco accanto alla mia vita, di averlo avuto senza saperlo e adesso di vederlo. Mi vorrei chiedere, e credo di interpretare anche il tuo desiderio, c'è un morto in sala? No, lo chiedo sempre per vedere se qualcuno alza la mano e se qualcuno crede nella reincarnazione, se qualcuno crede nella morte apparente e invece come ci dimostra la vita, nella vita apparente, perché il grande problema sono gli assenti presenti e sono i morti viventi, non tanto le persone che se ne vanno. Noi abbiamo a che fare con le persone già morte, che sono vivi. E questa però è una parentesi che vorrei aprire più tardi. Il rapporto tra agonia e agonismo. Diciamo sempre muori tu, muori prima tu, muori prima tu, muoio prima io, muoro prima io. Etimologicamente queste due parole agonia e agonismo vanno a chiamare perché uno dice spero di non morire come hai detto tu perfettamente durante l'incidente, per fortuna non sono io. E questo è il grande errore. E questo è il grave errore. Noi moriamo continuamente, costantemente. Il problema è che raccontato da un monaco, raccontato da una vita che ha fatto di ricerca sulla tanatologia, è un conto. Fuori dal festival, fuori dai momenti ad hoc. Questa roba viene vissuta come, caro monaco viene vissuta, caro artista, caro festival. Quando poi io ho un figlio che, quando poi ho una madre che, perché siamo ancora i figli e le madri. Siamo ancora convinti che questo sia mio figlio e quello non sia mio figlio. E che quindi nell'incidente sia coinvolto un'altra persona. Io vorrei essere sempre coinvolto. Io sono sempre coinvolto. Se posso essere indenne, preferisco. Però coinvolto sempre. Il grande problema è l'immedesimazione. La grande fatica che si fa a immedesimarsi negli altri è il grande, è la devastazione più assoluta. È la mancanza, l'assenza intesa come assenza e non come essenza. L'assenza è fatta di un'essenza che tu non vedi, ma non vedi perché non sei capace di vedere. Non vedi perché non hai energia, perché non hai la luce. Molti dicono, riusciremo a vedere la luce in fondo del tunnel. Non la vedrai mai la luce in fondo del tunnel. Sei tu la luce? Non la puoi vedere, sei tu questa luce qua. Allora quando io vado anche a incontrare delle famiglie di genitori nei riparti di oncologia e a parlare di cosa? A parlare di morte in un reparto di oncologia infantile. Io le prime cose che mi sento dire sono come fai a parlare tu che non hai mai avuto un figlio? Come fate a sapere che io non ho mai avuto un figlio che è morto? Come fate a sapere che io non ho mai... Perché dice bisogna provarlo per capire. Ecco io su questa cosa divento pazzo. Divento pazzo perché se noi dovessimo provare tutto per capirlo non capiremo niente. Non riusciremo a capire niente. Io non credo che tu abbia avuto dei figli morti. E mi verrebbe da accusarti. Vedi? Troppo facile. Troppo facile. Invece è il difficile, è proprio l'impersonale, l'abitare l'altro. Noi abitiamo l'altro nell'amore. Nella morte no. Abitiamo l'altro nella compagnia. Accompagnare alla morte. Noi accompagniamo sempre tutti alla morte. Anche quando usciamo di qua, andiamo a casa, stiamo accompagnando qualcuno alla morte. Non adesso, non ora, non così. Ma è un accompagnamento. Dice posso accompagnarti alla morte? Dice no, conosco la strada. No, il fatto è che la voglio conoscere io. Anche se tu la sai, la voglio conoscere io. Non solo per tornare indietro. E questo è il grande problema. Allora, se si potesse parlare di morte liberamente, come si fa a parlare di morte liberamente? La civiltà non sa parlare di morte liberamente. Sta a parlare di morti. Noi tutti i giorni parliamo di morti, non di morte. Non riusciamo a tradurre da questi corpi andati. Molti dicono appunto andare all'altro mondo, no? Andare all'altro mondo. Io dico sempre, ma se l'altro mondo fosse questo, non posso essere all'altro mondo in questo? È questo che io mi domando. uno dice, va soltanto il corpo se ne va. Resta l'anima. Bene. Sembra che noi parliamo solo agli andati di corpo. Solo agli andati di corpo. La civiltà, la politica, l'amministrazione fanno una fatica estrema a parlare di morte. Guardate i funerali. Guardate i funerali. Appena uno muore ha delle doti che nella vita non ha mai avuto. Mai. La stupidità non muore. resta lì col morto e resta in noi. Non è che viene declassata. Ecco perché io ho pensato di fare un funerale per i viventi. Il funerale per i viventi è fondamentale per aiutare ad incarnarsi, a diventare. Io divento, divento, avvengo. Il funerale da vivi è questa barra in salotto e la sera si aspetta il proprio padre che torna dal lavoro. Apparentemente stanco morto. Sentite come si dice stanco morto? Lo si adagia. Adagia perché veloce non ci andrà. Lo si adagia nella barra e si comincia questa operazione e si comincia a dire avrei voluto dirti tante cose ma non ho avuto il tempo di dirtele. Adesso ce l'hai. Adesso ce l'hai. Questa è una messa in scena. È una messa in scena che potrebbe servire per non attendere continuamente questo momento. Per non attendere il funerale e dire a questa persona ci mancherà. Ci ha lasciato. Fermate la frase. Ci ha lasciato. Punto. Ci ha lasciato un numero infinito di cose. Ci ha lasciato. Invece deve essere vivido. Noi prendiamo paura. Prendere paura è un furto? Voglio sapere. Prendere paura è un furto? Dove la prendiamo? E se la prendiamo dove la portiamo? Portiamo via. Per poter essere liberi, leggeri. Diceva tu hai paura? Hai paura da morire o hai paura di morire? Io ho paura da morire di certi vivi. Ho paura da morire di certe mancanze d'anima. Ho paura da morire. Non di morire in quanto tale. Io credo nella reincarnazione. Non sono sicuramente preoccupato del concetto di lasciare i miei cari. Che è una preoccupazione che certamente ho. Ma già la parola miei. Quella non ha a che fare con la morte. Non può avere a che fare con la morte. Quando vai a trovare delle persone. Io cerco di andare a trovare le persone prima che si ammalino. Andare a trovare un infermo prima che si ammalino. a trovare dopo è già finito il gioco. E devi parlare con lui. Io con i miei figli ho sempre parlato di morte. Il più possibile. So che in tante favole finlandesi, in tante favole nordiche, la morte è un soggetto esistente. Ho scritto un libro che si chiama la morte dove dentro c'è amor e morte, anatos ed eros. Però la morte è tutto attaccato. Cosa scegli? Cosa scegli? Cosa scegli? Non scegli niente. Perché sei anche innamorato della morte. Ma vallo a dire alle persone che ti fanno vedere la morte come punizione per te o come senso di colpa che alle volte è anche tremendamente giusto. È anche tremendamente giusto. Noi, il grande dramma è che noi se vediamo un morto tirato fuori dal mare è una persona su cui piangere. Non più. Non più. Per alcuni. Ma nemmeno più. Se questa persona però è viva ed è stata salvata è un problema. Quindi dobbiamo metterci d'accordo. Se sono morti li piangiamo, se sono vivi non li vogliamo. Allora il grande lavoro è questo. Un padre che perde un figlio non ha un nome. La madre che perde un figlio è vedova. Il figlio che perde un padre è orfano. Non abbiamo la figura del padre in un nome che perde il figlio. Non c'è. Allora pensavo potrebbe essere Dio. Chi è la figura più assoluta, in assoluto che ha perso un figlio eccetera. Però dice uno se non è cristiano e se non è cristiano va l'anagrafe cambia nome. Ma voglio dire questo non è il problema. Non potrei essere io. Non potremmo essere noi. Dice guarda che comunque il mio dolore tu non lo proverai mai per questa morte. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per arrivare più vicino possibili a quel corpo di padre e per uno scambio di coppia, per uno scambio di relazione, cercare di diventare quel padre anche materialmente, vestendo noi il figlio di quel padre, rivestendolo nella camera mortuaria, andando noi a mettere a posto la stanza del figlio se il padre vuole, per diventare quel padre lì. Arrivare il più vicino, lo so, proprio qui al festival della spiritualità. Mi sentire dirgli da due padri, si vergogni, non parli mai della morte di un figlio se non l'ha perso. E l'altro che mi ha detto non mi sento più solo, non mi sento più orfano di mio figlio. Ho sentito che ci sono delle persone che possono entrare in me e anche diventare me. E mi leggo al tuo discorso. Scienza o coscienza? Incandescenza o solo scienza? Senescenza o altrove? Sto con le tue parole, altrove. Bravissimo. Difficile anche da commentare. Però mi risuona molto e qua lo rimando a voi due. Perché è un tema questo, non si può parlare se non di quello che si è attraversato in prima persona nei gruppi di automuto aiuto, nei gruppi di supporto al lutto che noi abbiamo nella fondazione Fabretti, è un tema che emerge molto, no? E che emerge molto questa questa dimensione del mi sento lasciato solo col mio dolore nella società, no? Sento che le persone, io che sono in lutto, che le persone fanno fatica a incontrarmi, fanno fatica a parlarmi, non fanno mai quell'operazione lì di entrare nei panni, no? Della persona che ha perso qualcuno. Anzi, oggi nel caffè qualcuno diceva è una telefonata, quella un amico che ha perso qualcuno, quella è una visita alla mamma che ha perso un figlio, quella è una visita faticosa da fare, quella è una telefonata che talvolta diciamo preferisco non disturbare proprio per non farla. Quindi vi chiederei questo, ecco, in questa dimensione del difficile non morire tutti quando muore qualcuno, no? Questo tema dello stare vicino a chi soffre, dello stare vicino a chi ha perso qualcuno, dello stare vicino a una persona che sta, come dire, in qualche modo provando dolore nel dolore, come ci aiuta questa dimensione della vicinanza, dell'empatia che entrambi avete così, con questa potenza evocato? Grazie Alessandro, anche mi ha colpito molto la cosa che hai detto dei naufragi sopravvissuti, sei sempre molto geniale, bisogna mettere in crisi tante persone su tante cose. Comunque noi facciamo un errore grave, secondo me, a mettere in contrapposizione vita e morte. Questo è un po' anche quanto ha detto Alessandro, infatti noi abbiamo questo motto, no? La morte non è l'opposto della vita, è dentro la vita. Nel momento in cui noi facciamo una spaccatura tra vita e morte diventa chiaramente più mortale la morte. Ma se la morte è un processo della vita, perché di fatto si rideva un po', a parte con lui è facilissimo farlo, quindi chiacchierando prima mentre giungevamo qua, mentre ce ne andavamo insieme, effettivamente è un continuo morire, mi piacerebbe anche se tutte queste cellule che vogliono dargli un nome, magari dargli un saluto, no? Cioè, morire è un processo continuo ininterrotto della vita. È arbitrario alla contrapposizione, è tutto lì. Nel momento che li metti in contrapposizione ti infili in un piccolo cieco. Perché noi è un continuo morire. A parte appunto che dal momento che nasciamo muore già qualche prima cellula e continuo a farlo. Ma poi moriamo anche a tanti aspetti della nostra vita. Moriamo a dei ruoli, moriamo come bambini, nasciamo come adolescenti, moriamo come adolescenti, nasciamo come adulti, moriamo come studenti. È tutto. Dopo percepiamo un aspetto di questo come qualcosa di assoluto. Ma probabilmente, adesso non vorrei scandalizzare o sconvolgere nessuno, ma chi l'ha detto che dopo che moriamo non continuiamo a morire anche dopo? Perché Gregorio Dinizio usa un'espressione incredibile. Invece dopo andremo di inizio in inizio e gli inizi non avranno mai fine. Per iniziare vuol dire che qualcosa è finito, se no. Quindi è un incessante processo di finire e iniziare. C'è la vita, è la staticità che è la morte. E tutto ciò che è statico muore. È chiaro che le parole hanno un senso molto ambivalente, a parte Alessandro che è maestro di queste cose, no? Però è un problema spesso io adesso quando faccio lezione, quando spiego, cerco sempre anche di dire, ora io userò questo termine in questo senso, così ci capiamo, sappiamo di cosa stiamo parlando, perché per uno vuol dire una cosa, per uno vuol dire l'opposto, qualsiasi termine. Anche amore, sì sì, amore, bello, ce l'ho impiantato la bocca, no? Mi ricordo che mi raccontava un rabbino in Galilea, dice sì sì, anche uno può dire amo il pesce, lo ammazzo, lo rostisco e lo mangio. E facciamo così con le persone anche, eh? Quindi sono ambigui i termini. E anche morte può, spesso usiamo morte per dire morte, ma anche nella letteratura sacra, nelle sacre scritture. E invece certe volte morte per dire vita. Per quello che le parole più possibili vanno qualificate, che abbiano un senso, anche che relazione, ci siamo riempiti la bocca della parola relazione durante il Covid, no? La relazione è importantissima. E chi te l'ha detto? Anche lo schiavista è in relazione con lo schiavo. Cioè tu mi devi dire chi è relazione, perché poi forse ripete relazione, li ha messi tutti in relazione sui social, sulla rete, sono tutti finiti lì col telefonino, perché tanto è relazione. Eh no? Io voglio sapere che relazione? Cosa mi proponi? Che vita mi proponi? Che morte mi proponi? Una morte che è vita o una morte che è morte? Perché se è la morte che è vita, allora è affascinantissima. Perché è la meraviglia che rende vitale la vita, no? Pensate come saremmo già morti se ci annoiassimo a vedere i tramonti. Però è difficile che uno sanno a vedere un tramonto, è sempre uguale però. E però non è mai uguale. Ecco, per cui si muore, si diventa morti viventi o sepolchi imbiancati quando non capiamo più la vita fino in fondo, non ci meravigliamo più della vita. E quando usciamo dalla comunione della vita, dal mistero della vita. Perché in India c'è un testo che dice che l'universo intero è una forma di lui. Per cui, cioè, nulla veramente nasce e muore, siamo dentro in un mistero infinito di cui facciamo parte fino in fondo. Gli archeologi, infatti, erano stupiti che a Mongeodaro, i famosi ritrovamenti nella Valle dell'Indo, cercavano il tempio e non trovavano il tempio. E' perché il tempio è ovunque. Noi dopo l'abbiamo ristretto, inscatolato, ma ci siamo immersi dentro. E deve essere comunione ovunque. A punto tale che giustamente Turoldo, indispettito, morta la madre, ha detto al Signore, sia ben chiaro che se in paradiso non ritrovo mia madre, tentalo quel paradiso. Cioè, se non è un fatto di comunione, di stare insieme, di continuità, se non c'è continuità, è morte. Vera. Se c'è continuità, la morte è viva, è vita. E dove dobbiamo imparare quest'arte? Ce lo insegna molto la natura, incessantemente. Siamo veramente ciechi. La natura canta interrottamente a un canto in cui la morte è vita. Tramonta e risorge il sole. Tramonta la luna, risorge la luna. Diventa buia e poi riprende luce per tre notti, no? Anche simbolicamente. E gli alberi muoiono e poi rinascono. E ce lo continua a dire. Siamo stolti a mettere in opposizione vita e morte. E questo ci dissecca. Poi, diciamo, l'esempio meraviglioso per noi mediterranei è il grano, no? Il grano che è l'esempio molto utilizzato. Infatti, penso, conosciate questi versetti, no? Chi mangia del pane nato da questo grano del mio corpo offerto per voi avrà la vita eterna, no? Tutto il parlo da tutte e tutte. Osiride, 2500 a.C. Poi c'è anche simile nel Vangelo, no? Anche perché nel Mediterraneo il grano era coltivato in un modo particolare per accestimento. Le terre fertile erano pochissime, erano elementari, ricordate, no? Torno ai fiumi, poca terra. Allora non era come in pianura padana un chicco due spighe, ma rincalzavano, da un chicco di grano arrivavano fino a 100-120 spighe cariche di chicchi di grano. Cioè, quindi, pensate cosa vuol dire. Allora, intanto, il chicco di grano, se è verde, cosiddetto vivo, non ci puoi fare la farina. Muore, cibo, vita. Poi, se è morto, diventa seme. Ma poi seme, porca miseria, ma hanno trovato dei semi di 2000 anni fa, di 3000 anni fa, li hanno riseminati, erano vivi. Cioè, capite? La vita è veramente un fenomeno impressionante. Così come un gracile filo d'erba ti spacca l'asfalto e il cemento, no? Cioè, la vita è impetuosa, no? In India ci sono queste tre forze che animano la danza cosmica, che tutto cresce, e tutto cresce perché è spinto dall'amore, no? Gli Stara, Rasa e Seva sono le qualità della danza cosmica, però tutto è spinto dall'amore e l'amore è amore se cura e servizio, no? Per cui tutto cresce in modo impetuoso, tanto che spacca l'asfalto. Cioè, la vita è qualcosa di inarrestabile, non può avere un opposto alla vita. Questa è stata la grande fregatura, di aver esserci inventato un opposto della vita. Se invece capiamo che dentro, era appunto il grano morto, diventa seme, diventa cibo, ma poi la cosa impressionante è che trabocca. Cioè, muore un chicco e si moltiplica. Il morire ti amplia, ti espande, ti fa esplodere, ti fa diventare molto più di quello che di prima. E allora gli antichi vedevano e capivano che c'era qualcosa che andava colto da questo messaggio. In quanto ci riguardava? Ecco, lo capivano perché ne erano parte. E noi ci siamo scatorati nel cemento, non lo capiamo più questo linguaggio. Non capiamo, ad esempio, che l'acqua stagnante è morta. E quindi morendo è viva perché si muove, perché va altrove, perché continua, perché non si arresta. E allora chiaramente possiamo leggere le cose da tanti punti di vista diversi. Se abbracciamo la vita in un modo tale che potremmo, c'era una mistica del Novecento, era terziaria di un ordine, perché ha voluto morire nel convento e le terziarie sono legate a un convento, ma vivono la loro vita, faceva la professoressa, eccetera. E non se l'ha sposata, qualche soldino l'aveva tenuto via, forse le sue linee speravano nell'eredità. E invece questa qui praticamente si è fatta ospitare in convento e si è mangiata fuori tutti i soldi in due o tre settimane per morire. Perché ha fatto venire, le più grandi sarte l'hanno fatte a vestire in modo sontuoso, poi gioielliere, ingioiellata, truccatrici, perché state impazzita. E dice, no ragazze, impazzite siete voi, ma avete promesso uno sposo, non l'ho mai visto, finalmente l'abbraccio. Insomma, moltissime immagini straordinarie. Una mi ha colpito. Il Mediterraneo compare in due versioni. È comparso in due immagini contrapposte, ma forse non tanto contrapposte. Il Mediterraneo come sponda fertile da cui origine la coltivazione, la civiltà. Il Mediterraneo come luogo di morte, di naufragio. E oggi forse, come dire, forse abbiamo perso quella dimensione di unione, di unità, di transito, di fluidità e siamo caduti in una dimensione di separazione, dicotomia, barriera, confine. E un'altra immagine mi ha colpito moltissimo, che mi è molto familiare peraltro, perché morire dopo la morte, ecco qua mi permetto di raccontare due parole di, forse chi ha visto il film Coco è familiarizzato dalle mie parti, quindi nel Mesoamerica, la Colombia, il Centroamerica. La morte del corpo è solo la prima morte. Solo la prima morte che in realtà non comporta una morte definitiva, perché l'anima rimane nel luogo degli antenati, che è pensato in molti modi, un luogo marittimo per lo più dalle mie parti. La morte, la seconda morte invece, è la morte dell'anima, perché anche l'anima è mortale nelle transizioni amerindiane di quella zona lì. Anche l'anima è mortale e muore quando l'ultima persona vivente ricorda quella persona lì che è mancata, che è morta. Quindi la morte dell'anima è l'oblio. E questo mi riallaccia un po' a un po' qualcosa che dicevi, l'assenza come elemento della presenza, come non contrapposto alla presenza, ma come essenza, no? Come stanno, in che relazione stanno questi termini? Assenza, presenza, ma anche solitudine, accompagnamento, che sono immagini molto forti che ci hai regalato. Tu eri partita prima dal concetto di solo, sentirsi solo. Il grande problema è non finire le frasi. Tu ti senti solo perché sei solo uomo, solo donna, solo mortale, solo bambino, solo scolaro, solo studente, solo industriale, solo politico. Quando smetterai di essere una cosa sola ti accorgerai. Però, ragazzi e ragazze, signori e signore, il problema è un cambio di dimensione. Il cambio di dimensione non può avvenire con un torpore creato e lavorato approfonditamente da ogni mezzo mediatico e da ogni parte circondato. Non si può parlare di acqua. Ma come fai a parlare di acqua con uno che non ha capito, o con qualcuno che deve lavorare sul tema dell'ecologia, non ha capito che il problema dell'acqua è l'acqua che ci sta raccontando che cosa dobbiamo fare. Infatti noi parliamo sempre della lettura della luce, del gas e dell'acqua. Io aggiungo anche la lettura del pensiero e la lettura del labiale. Cosa è la lettura dell'acqua? La lettura dell'acqua è guardare, se vogliamo guardare queste televisioni, che hanno bombardato una diga in Croazia, che c'è l'Emilia Romagna allagata, che la Libia si è allagata, che il mare mediterraneo è un mare, è alle, allaga e annega e deve fare quello che io chiamo congiungivite. Congiungivite è un movimento che io voglio fondare, a differenza della congiuntivite, la congiuntivite ti fa vedere poco, lacrimi, ma non piangi, che è molto diverso, la congiungivite ti fa unire alle altre vite. Allora dovremmo raccontare, scusate, a noi gente comune, io mi sono un po' stancato della gente comune, che però è arrabbiata, che però vuole la soluzione, più delle altre volte vuole la soluzione, non la soluzione, di gente comune che dice a me va bene così ma non mi va bene niente. Il cambio di dimensione, quando lo fai? Quando suoni il contrapasso, che è uno strumento che va suonato tra l'alto e il basso, tra il piccolo e il grande, tra te e l'altro da te? Quando è che avviene questo moto interiore? Perché prima deve essere interiore, ma se non avviene con un moto esteriore, noi saremo tranquillamente con noi stessi, molto difficile restare con gli altri. È inutile che una madre di un bambino di Cesena dia il bambino al gommone dei carabinieri per salvarlo. Non si chiede però se è dei carabinieri, della polizia o della finanza, glielo dai e dice salvami. Allora caro genitore romagnolo, prova a pensare che cosa succede, congiungi vite, in quel momento la tua e tra questi naufraghi che chiedono di essere salvati, poniti il problema che non c'è più la Romagna, non c'è più il Tirreno, non c'è più il Mediterraneo, poniti questo problema, ma non se lo pone nessuno, non se lo pone nessuno, lacrime, lacrimea, chi è vivo, lucrare l'Ucraina. Non sentite che le parole stanno dicendoci, ci proviamo noi se non ce la fate voi. È il poco che vi danna, è il poco che vi danna, è il portare a casa il piccolo risultato, raggiungere l'obiettivo. Se noi fossimo più pronti, l'obiettivo verrebbe da noi. Basta raggiungere l'obiettivo. Se lui vedesse che siamo predisposti, viene lui perché ha detto non mi venite. Adesso è l'obiettivo che è solo. E dice ma non venite verso di me. Allora che cosa succede? Succede il famoso outing, si chiama così. Io domani avrò un tumore e allora che cosa vi dirò? Andrò, io non sono sui social, scriverò. Di solito scrivo altre cose. Io scrivo della morte, della malattia, da molto prima di averne una. Però è quando tu mi parlavi del tramonto, questa bellezza. Guarda che io e te, prenditi paura, siamo abbastanza in consonanza, più di quello che tu pensi. No, 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 no. Perché dietro quella barba, dietro quegli occhi, dietro quei capelli, dietro quella testa ci sono un sacco di persone che mi piacciono. Però ti stavo... e che ti aspettano, e che aspettano. Ti stavo dicendo. Allora domani comincerò a dire la meraviglia del filo d'erba, no? Appena una persona, io le ho frequentate, le ho avute vicine, le persone a cui dici, questo male, questa cosa, sai, ho guardato il tramonto, ho guardato il mare, ho guardato il filo d'erba che spaccava la terra, eccetera. La mia domanda è, ma cazzo! Prima di avere questo tumore, ma tu dove guardavi? Prima di stare male, tu dove eri? Dove eri? Dove ero io che stavo male e tu stavi bene? Ma mi guardavi o non mi guardavi? ti riguarda? La morte ti riguarda? Cioè ci riguarda, ho parlato con la morte che ci riguarda, ha detto che per un po' ci guarda ancora, poi ha detto che non ci guarda più! Perché non ce l'ha... allora voi dite, sì, sì, l'attore, l'artista, il pensatore, il monaco, poi ve ne andate a casa, ve ne andate a casa, qua non si va più a casa, l'ho già detto tante volte, lo ripeto, non ci sono case, non ce n'è per nessuno. Il terremoto in Turchia, il terremoto in Siria, mi pare, non ricordo, le superpotenze hanno mandato le loro forze per togliere le persone da sotto le macerie, perché non c'erano mezzi in quella, la povertà di quelle terre, e hanno dato una mano fondamentale, poi hanno finito e sono andati a bombardare degli altri terreni per fare degli altri personaggi sotto le macerie. Oh ma, allora, allora qua, ma cosa mi metto a parlare con l'Europa? Io andrò a Strasburgo, a Bruxelles a parlare della casa dei risvegli sulla disabilità, finito di parlare della disabilità, mi prendo venti minuti, mi lego a qualche cosa e li voglio vedere in faccia, li voglio vedere in faccia, ma cos'è lontano dagli occhi, lontano dal cuore, cos'è l'ombelico, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ma cerca di capire che se sei europeo puoi essere tranquillamente anche siciliano, lampedusano, ma che cosa avete nella testa? Che cosa c'è nella testa? Allora uno dice, c'è, c'è, dobbiamo fare un salto quantico, ma io credo, carissimo Guidalberto, mi rivolgo a tutti e due, caro Guidalberto, qui non ce n'è, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, nessuno ha voglia di fare un triplo salto vitale, non vortale, triplo salto vitale, fa molta più paura la vita della morte, ma molta più paura, e non si deve cambiare niente, non si deve cambiare niente, mai, mai, cambio quando mi manca, quando mi manca la terra sottipiedica, la via della seta, e chiedono la via della con la Cina, è la via della sete, la via della sete, non sentite che sono le parole che chiedono questo, la via della sete, il deserto del Sahara non è diventato la via della sete? Che cosa fa, e lì c'è morte, no? C'è morte, ma che morte è? È la morte degli altri, è la morte, i giornalisti raccontano la morte, la vedono la morte, io mi meraviglio davvero come un giornalista che faccia un telegiornale, o che faccia un talk show, come a un certo punto non si fermi e dici che non ce la faccio più, non posso più parlare di numeri, di statistiche, non posso più dire non ci sono italiani tra i morti dell'allagamento, non ne posso più, ma tutti stanno dentro al loro corpo, allora il grande problema è uscire dal nostro corpo, dice ma tu sei credente, sì sono spiritualista, ma tu sei monaco, decidete voi cosa volete essere, poco Dio, molto Dio, molta Madonna, poca Madonna, mi viene da dire poca Madonna e poco Dio, inteso nel senso, ma non vi accorgete quanto, poca ce n'è, volete cavare questo, non vi va bene il Dio vostro, allora il mio nostro, il Dio loro, prendete il vostro Dio, musulmano e non, cristiano e non, ebreo e non, ma parlate anche con e non, andate anche dai non, se volete un altro Dio, inventatevi anche quello lì, e non sentite che la divinità l'avete in voi, non sentite la divinità l'abbiamo in noi, non sentiamo che Terzani, a cui tu assomigli insieme ad altre 25.000 persone, ma io non critico, io amore, e quanti morti ha visto lui nelle sue, nei suoi, quante ne ha viste di guerre, non come noi che stiamo a casa, quante ne ha visti, quante ne ha toccate, che cosa è successo però lì? Quello, quello, quello è il grande, è il grande avvenimento, il grande cambiamento, però se no, come dico sempre, auguro a tutti tumori a volontà, perché significa conoscenza, significa sapere, significa sensibilità, ma lo vedi com'è perverso, lo vedi com'è perverso, un prete, Don Patricello, che ho conosciuto per la terra dei fuochi, sentite, terra dei fuochi, mettiamo delle virgole, terra virgole, dei virgola fuochi, quindi terra dei fuochi, non è una descrizione, sono tre cose, dei fuoco, la terra dei fuochi è la terra delle battaglie, ma è anche la terra dei fuochi dove sversano i liquidi, i liquami, e si muore, non 16 persone per un alluvione o 25, 50, 60 di leucemie tutti gli anni, interessa qualcuno lì, no? Perché io devo pensare all'Emilia Romagna, la mia terra, ma non è la mia terra quella lì? Caivano non è Italia, non è Europa, Caivano non è Europa? Allora voglio dire, che cosa ha chiesto un prete, per favore? Fermate questa violenza su delle bambine di dieci anni, questi gesti di pedofilia, un prete ha chiesto, ha chiesto di smetterla con la pedofilia, a Caivano, su dieci persone, un prete, congiungivite un attimo, ma congiungivite, 200.000, 300.000, migliaia di persone violentate dalla Chiesa, io non ho niente contro la Chiesa, ma non sentiamo la vicinanza di tutte queste cose, la vicinanza di queste parole, la morte di queste ragazze in discoteca, uccise soprattutto dai loro fidanzati, non dai nigeriani, uccise dai loro padri, vendute dalle loro madri, vergognosa, vergogna, vergogna, vergogna. E poi cosa si fa? Si fa che qualcuno, dando dei miliardi a uno Stato, tanti, gli dice, fatele stuprare, fatele uccidere nel vostro campo di concentramento, noi vi diamo i soldi, fatelo, teneteli lì e si sa che vengono stuprate, uccise. Allora la mia domanda è, congiungivite, qual è la tua figlia, quella che è stata violentata in una discoteca, è Caivano o quella figlia là? Qual è? Qual è? Qual è il figlio? Qual è? Ormai, ormai chi non fa questi collegamenti è già morto, è morto, è morto. La politica non ce la fa, bene, la Chiesa un po' ce la fa, un po' non ce la fa, poi bisogna andare a Daccio, bisogna non impaurire la gente, bisogna non impaurire la gente, ma non è impaurita la gente, ma sentir certi ragionamenti, sentir certi collegamenti, 4.398 euro a un migrante, ma avete paura della morte, ma la morte vi troverà delle sorprese, vi sorprenderà in confronto a quello che c'è nella vita, allora sta a noi cambiare la vita, cambiare la morte, cambiare la sorte, cambiare le porte, questi di usci, di entrata e di uscita, e allora il poeta, il poeta, il poeta, l'arte, 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 il poeta, l'arte, di quanto parlano di morte i poeti? Tantissimo, e quanti artisti, la morte, Guernica, la guerra, le crocifissioni, le lapidazioni, il taglio della testa, ma quella è arte, quella è arte, quella è poesia, quella è politica, questa è la vita mia, tenete ancora, volete ancora tenere separato? Tenete separato? Tenete separato, tenete separato, tenete separato il covid, tenete separato tutto, tenete separato qualsiasi cosa, non c'è problema, l'artista cerca di fare quello che può, io ho fatto, hai detto tu, mi ha rovinato la sorpresa, era una sorpresa, dopo le morte nel mare greco, io ho deciso di fare un gesto dove non c'erano politici, dove non c'erano manifestazioni, non c'erano bandiere, non c'era nessuno che parlava, ho fatto 600 colpe di campana dalla rengo della piazza maggiore di Bologna, che suona solo durante l'inizio della guerra mondiale, fine della guerra mondiale, liberazione, eventi tragici, 100 volte per la morte del Papa, 101 per la morte di un Presidente. Il prefetto mi ha detto, Bergonzoni, che cosa vogliamo fare? 600 ne vuoi tu? Chi è morto? 600. E qualcuno che conosciamo ha un'onoreficenza, è italiano, dico guarda, guardi, tra 600 morti che sono colati a picco, in silenzio davanti a delle navi che li guardavano e che, aggiungo, il mare era perfettamente calmo, sono stati trascinati in un punto di nessuno, in un mare di nessuno per dire non è greco, non è maltese, non è italiano, li hanno portati lì in mezzo per dire ci penserà qualcun altro, le ambulanze erano tutte attorno, c'erano tutti i problemi, ma era perfettamente calmo ed era giorno, quindi non stiamo a parlare di disgrazi, eccetera, e va bene, l'hanno trainata male, trainata male e si è capovolta e sono andati giù. Il problema, il problema è realmente capire con quei 600 colpi, e l'ho detto al prefetto, lei pensa prefetto che tra quei bambini più di 150, di cui Pakistani, l'unica nazione che ha fatto lutto nazionale, Pakistan, non ci fosse stata tra quei bambini di altre nazioni un futuro papa, ne ha la certezza, e lui ha detto no, falla. Allora io mi sono messo a prendere dei campanari che per un'ora, un'ora, a 4 secondi alla volta, ha cominciato a suonare, per 600 volte. Allora c'è bisogno di guardare la televisione, c'è bisogno che siano i nostri figli, c'è bisogno che sia io che va in mare, ho quelle gocce, acqua, ancora acqua, invasione dell'acqua, acqua che ti accoglie, acqua che fa più di quello che fa un uomo nei tuoi confronti. E questo è stato per un'ora, nessuno ha parlato, nessuno ha detto contro il governo, contro nessuno, qui non c'entra più il governo, non c'entra più niente, qui c'entra la vita, la morte, come hai detto tu, c'entra la vita della morte, la morte della vita. E lì, ma la lettura di questo, l'hanno fatto altre quattro città, mi piacerebbe che lo facesse anche Torino, altre città hanno detto aderiremo, per far sentire un suono, un suono che non è la protesta, che non è la cosa, ma che conta questi numeri. 150 gli altri, altro gesto vitale, si sono salvati con i loro parenti che sono morti su quella barca, li hanno messi in un'altra barca, non a terra per cercare di, con dei soldati, per controllarli, come adesso si fa sempre, siamo passati dalle caverne alle caserme e siamo arrivati lì, li hanno cacciati su una nave, su una nave e per motivi di regolamento di conti, non di regolamento, perché il regolamento, ma il regolamento di conti è una vendetta, li hanno messi in un'altra nave dopo quell'affondamento con i loro parenti dentro e sono andati da lì, sono andati alla spezia, cinque giorni di navigazione, allora io vi chiedo, voi avete paura della vostra morte, noi abbiamo paura della nostra morte, ma noi siamo morti 600 volte, ognuno per uno con loro, noi moriamo, come dice giustamente il titolo, come rappresenti tu, noi moriamo con chiunque e nasciamo con tutti, nasciamo, questo è un problemino che però davvero, usciti da qui, non vi ponete più, non si pone la politica, non se lo pone nessuno, non se lo pone l'Europa, nessuna superpotenza, ecco la parola e chiudo, la superpotenza è la nostra, potenza da potere, non da dominio, controllo, emanazione, frequenza, luce, lavorazione, emissione, emissione, non conflitto di disinteresse, ma unione di interesse e ti infili dentro a questo tunnel che non conosci, perché adesso io amo molto più le persone che non conosco che quelle che conosco, perché so che lì ci sono delle cose, l'incredibile, l'inaudito, l'impossibile, e vado a abitare là, io non voglio più avere a che fare troppo con questa cosa che mi sta condizionando, lentamente uccidendo, perché me ne accorgo, lentamente noi perdiamo, la quantistica lo spiega che noi siamo in collegamento con le cellule degli altri, hanno dimostrato a Bologna, Carlo Ventura ha dimostrato come le nostre cellule si parlino, sentano la voce negativa, la voce triste, l'allegria, si muovono, si allargano, si restringono, si avvicinano, si allontano, ce lo deve spiegare la fisica, ce lo deve spiegare la fisica, l'unione con gli altri, ce lo deve spiegare la religione, la religione non ci crediamo più, ognuno, che cosa c'è? Manchiamo noi, tu sei un grande esempio, Terzani è un grande esempio, con tutto il rispetto gli esempi sono finiti, cioè l'esempio dobbiamo diventare noi, non c'è niente da fare, è l'unico compito e non è una cosa che uno dice ci insegni, io non insegno niente, io al massimo racconto, racconto che voglio fare un tavolo delle trattative e chiudo davvero lungo sei metri e ho chiesto a Emergency di mandarmi le gambe dal Kurdistan, sono arrivate delle gambe dal Kurdistan, ho scritto sul giornale, sto aspettando le gambe del Kurdistan niracheno, mi sono arrivate le gambe, tolgo le gambe di quel tavolo di sei metri, al posto delle gambe del tavolo ci metto le gambe dei morti, che sono morti dopo aver usato quelle gambe, perché quel tavolo delle trattative sta su soltanto grazie alle persone sulle caster bombe, su quelle bombe vietate, proibite, che stanno costruendo in Italia, perché noi parliamo di Leonardo, il grande inventore delle ali, poi c'è Leonardo, il grande inventore della vendita delle armi e degli aerei, tutti lavorano sulle ali, sull'abitacolo, sul cenacolo, perché Leonardo ha fatto il cenacolo, gli altri hanno fatto l'abitacolo, dall'abitacolo si colpisce qualcuno che c'è sotto, quindi facciamo sti collegamenti o no? Facciamo il collegamento con la bambina morta a Torino, perché le frecce tricolori hanno sbagliato e veramente sono vicinissimo a quel pilota, a quella famiglia, ma ci sono arte contemporanea, si chiama arte contemporanea, congiungi vite contemporaneamente, mentre ne è morta una, ce ne sono in cielo di aeree migliaia di quelle e uccidono bambine, bambini, eccetera, e noi non congiungiamo questo, allora la vista è corta, la vita è corta, l'anima è inesistente, non pretendiamo di pretendere, non chiediamo a nessuno nient'altro, perché se non cominciamo a essere noi tutt'altro, nessuno ci può dare una mano, ma nessuno di quelli che io ho finora conosciuto sulla vita. Una bella sfisa ci lancia, allora mi colpisce molto questo concetto di congiungi vite e questo è essere tutti corpo di tutti, il corpo, il nostro corpo come corpo di tutti, la morte di tutti come morte che ci riguarda nel corpo, ci riguarda nello spirito, ci riguarda nel nostro senso di giustizia, ci riguardano le morti dei migranti nel Mediterraneo, ci riguarda la morte della bambina che è morta pochi giorni fa a Torino, ti chiedo, Alberto, un pensiero su questo concetto della morte che ci riguarda. Fortuna che io ero il provocatore. No, una cosa solo tra l'altro rispetto agli aerei che giustamente ricordi, che tra l'altro quella bambina è morta perché è stato un incidente involontario, ma chiudiamo gli occhi su quelli che invece sono bombardieri volontari, quindi chiaramente è un bel dramma quello che stiamo vivendo. Comunque finché non ci percepiremo come corpo unico, che è quello che tutta la mistica insegna, finché non entreremo in questa dimensione, è chiaro che rimarremo in questo torpore, questo torpore inaccettabile, l'Apocalisse è molto duro sul torpore, il torpore secondo me è quel male di cui parlavo prima quando dicevo cos'è la disumanità, il torpore, perché se sbagliare si sbaglia, ma quando ci si intorpidisce di fronte al male lì è pericoloso. In fin dei conti appunto l'Apocalisse recita con forza, non sei né caldo né freddo, sei tiepido, ti vomiterò. Purtroppo è una umanità molto tiepida, molto intorpidita di fronte a tutto ciò che vede. Io penso che se capiamo che quello che viene fatto a chiunque è fatto anche a noi, ma io sarei anche per un'estensione di questo non solo agli esseri umani, un po' a tutti gli esseri del pianeta. Se volessimo, per sé adesso è il centenario del cantico di Francesco, l'anno prossimo siamo alle soglie e mi hanno chiesto di commentarlo con un poeta. Di per sé sarebbero da contemplare anche tutti i cosiddetti inanimati. Il padre Clemente Alessandrino, più di tutto, ma tanti dai grandi mistici padri della Chiesa dicevano che c'è una sinfonia di tutti i viventi e di tutti gli inanimati. Noi stanno perdendo questo contatto. Francesco la cantava, tra l'altro la cantava con gli inanimati, perché lui canta sole, luna, stelle, i quattro elementi. Per cui siamo dentro in una armonia a cui dovremmo partecipare in modo profondo. Questa armonia era intesa nel senso proprio musicale. Noi siamo ormai una civiltà stonata. La creazione è sempre stata intesa come un fatto musicale da quasi tutti i popoli. Questo è molto interessante, anche perché così sarebbe forse da rivedere questo benedetto Big Bang. Un decennio fa negli Stati Uniti avevano scoperto che in realtà non c'era stata nessuna esplosione. Perché ci fa comodo pensare che tutto è iniziato con una bomba. Invece tutto è iniziato con un canto. È iniziato con un canto, per cui sarebbe forse, dicono, questa radiazione iniziale che è rimasta impressa probabilmente è stato un canto, una musica, qualcosa di bello, un big song più che un big bang. Invece pensare che tutto è iniziato con un'esplosione catastrofica giustifica tutte le nostre incessanti esplosioni e le nostre disarmonie, le nostre stonature. Per cui dovremmo rientrare dentro in questa unità di tutto capendo che siamo parte di una sinfonia di tutto. Infatti non mi piace il termine alterità, diversità, l'accoglienza del diverso, dell'altro, ne chiacchieravamo prima, perché comunque presuppone un qualcosa che non appartiene più alla sinfonia della pluralità. Una sinfonia fatta proprio di infinite pluralità, che sono la bellezza di una sinfonia, altrimenti accordate. Per cui se è dentro in questa sinfonia, e quindi uno canta il suo canto, anche l'ultimo canto di qualcuno fa parte di questa sinfonia e si trasforma in un altro canto altrove, ma sempre partecipe di tutto. Il problema è che abbiamo perduto questa canzone e sarebbe quello che gli orientali chiamano il mantra. Nell'essere pensati in questa sinfonia, ognuno è assegnata, questa è una leggenda un po' più su, un po' più a nord di te degli Eupi, ma di per sé appartiene alle mistiche di tutti i popoli, no? A ognuno è assegnata una canzone. Uscivano da una grotta in cui si erano inchiusi perché c'era una catastrofe e uscendo un uccello vario pinto cantava per ognuno una canzone che doveva portare con sé. Il mantra, il nome segreto, quel nome segreto scritto sulla Pietruzza dell'Apocalisse, no? Che conosce solo chi lo riceve. Cioè noi abbiamo un canto segreto dentro di noi e invece stiamo cantando stonature. E le Upanishad dicono a testo sacro indiano, no? Noi diventiamo ciò che pensiamo. Per cui è molto importante, secondo me, di costruire contemporaneamente denuncia e sinfonia. La denuncia è indispensabile, tutto ciò che ha denunciato Alessandro va denunciato, lo condivido in tutto. E contemporaneamente quella sinfonia che non si accorda le stonature degli altri. Troppo spesso invece noi esprimiamo solo rabbia per le ingiustizie, giusta, sacrosanta, sdegno per ciò che merita sdegno. Però poi bisogna subito ricantare la canzone che è mancata per ricostruire quella sinfonia che qualcuno ha fatto mancare. In modo che entriamo dentro in un altro modo di vivere la vita. La vita è infinita. Noi siamo un'increspatura di questa vita infinita. E bisogna avere proprio la determinazione di cantare incessantemente la nostra canzone. Perché diventiamo ciò che pensiamo. Il mondo diventerà ciò che noi canteremo. Tutti stiamo cantando una canzone stonata, anche ripetendo con rabbia giusta, e se ci fermiamo lì però manca un pezzo, quello che gli altri stanno facendo di male. E quindi mettere insieme queste due parti. Non si può tacere, attenzione, niente coetismo, niente indifferenza, niente silenzio. Quando c'è stata la pandemia con lockdown, io dopo due mesi ho detto è già troppo. Capisco un mese. Al secondo me è troppo, la gente continua a morire da sola, non va bene. Io e Don Zelli, il presidente del meire, membro della commissione biotica, siamo andati in regione e abbiamo detto no, non ci va bene. Forse non vi ricordate che è un mito fondante della civiltà occidentale, Antigone, ho detto non mi va bene, non ci sto. Ecco, ma dicono che non si può, ma ne frega niente di quello che dicono che si può, che non si può. Io ti dico quello che è inaccettabile. Io non ci credo che ci sia una barriera tra possibile e impossibile, non ci credo, non ci ho mai creduto, ci devo credere adesso. Non ci credo, non mi interessa. Si deve fare. Non ci siamo arrabbiati, però non ci siamo spostati di un millimetro. Ha detto provate. Se ti serve vedere che provando è possibile, ci ha dato un ospedale dovevi provare e si può. Si può tenere la mano a chi muore anche se muore durante Covid. E abbiamo fatto una legge regionale che chiunque poteva avere a fianco, uno che gli teneva la mano, anche se c'era Covid. Si può. Non esiste barriera tra possibile e impossibile. È che noi diventiamo ciò che pensiamo. Per cui dobbiamo unire alla denuncia anche il sogno di ciò che sogniamo. Perché se non sogniamo gli incubi degli altri e basta. E non ci condurranno tanto in là. e cercare quindi di portare quella nota nuova, quel canto nuovo a coloro a cui manca, insieme alla lotta contro tutto il male che c'è. Perché il torpore secondo me è la cosa più inaccettabile che incontro. A me non mi inquieta nulla. Lo diceva anche Thierry Chardin, no? Guardate che non è la fame, la peste, la guerra, il peggio che c'è. È l'indifferenza che parte da dentro. Perché poi è un'indifferenza a se stessi. È certo. È chiaro. No, bellissimo, ha ragione. Ma una delle cose che mi scandalizza di più, io mi trattengo certe volte e purtroppo sono sempre stato un po' provocatore sin dal bambino e quindi mi sono sempre accacciato nei guai molto facilmente. Però ecco, quando succede un cataclisma altrove, non c'era nessun italiano. Ma cosa me ne frega. Cioè, ma guardate che quello è scandaloso, no? Non ci sono italiani. Questo è scandalosissimo. Ecco. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che stiamo vedendo e ciò a cui stiamo assistendo. E bisogna capire che le persone che abbiamo a fianco a noi, no? Sono qualcosa di meraviglioso come noi. Noi non ci riteniamo meravigliosi, non riteniamo meravigliosi gli altri e andiamo ai centri commerciali a fare la spesa a cercare qualcosa di interessante per coprire quel vuoto che ci siamo fatti nel non riconoscere che siamo divini. E che anche l'altro non è. Perché sarebbe bello che provate a guardare quello di fianco a voi, no? Cioè, al centro commerciale siete capaci a trovare delle cose interessanti. Ma porca miseria! Ma quelli l'hanno fatti i cinesi. Se tutto di fianco a voi ce l'hanno fatto da io. Lo siete accorti? Bene. Allora, credo che qua ci sia veramente, stiamo avviandoci verso la chiusura, però credo che... No, verso la chiusura di oggi, no? La fine ormai è arrivata. A ogni fine corrisponde dall'inizio. Però, come dire, mi sembra molto interessante chiedere così un pensiero brevissimo su quest'idea, no? Della sinfonia, del come in qualche modo abbinare alla denuncia necessaria, alla voce che si fa sentire, al pensiero che è non tace rispetto all'ingiustizia, all'indifferenza, alla disumanità, con però quella capacità di, in qualche modo, ritrovare una sinfonia nella pluralità. Ecco. Molto breve. È l'incanto. L'incanto. Dopo la rabbia e dopo la denuncia che devono esserci, trovare l'incanto, quel suono. Io suono. Io suono non è un concetto egoistico e gotico. Io suono, io vibro. Questa vibrazione richiede la protesta prima e poi dentro ci deve essere questa musica, questa sinfonia. Chi è il direttore del test? Chiunque. Gli strumenti li suonano tutti e li sappiamo suonare tutti. Quindi è proprio, prima ho parlato di contrapasso. È uno strumento nuovo. O il violoncello. Il violoncello che è un qualche cosa che ti porta oltre. E ci si può arrivare con la meditazione, con la preghiera, con l'arte. Perché avere paura di queste cose? Perché non sentirle? Perché non adagiarsi velocemente? Per poter dire io suono, tu suoni, noi siamo un'orchestra sola. Bene. Conclusiamo qui la nostra serata. Non è la fine, ma un nuovo inizio, possiamo dirlo. Grazie a tutti per la vostra presenza e complimenti ai due straordinari ospiti che abbiamo avuto. Grazie a tutti.